Oggi l'essere nobili, il voler essere per se stessi, il poter essere diversi, il restare soli e l'esigenza di vivere a modo proprio appartengono al concetto di grandezza e il filosofo scoprirà una parte del suo proprio ideale, si stabilirà, sarà il più grande chi saprà essere il più solitario, il più nascosto, il più derogante, l'uomo al di là del bene e del male, il padrone delle proprie virtù, il più ricco di volontà. Questo appunto dovrà chiamarsi grandezza, il poter essere tanto molteplice quanto intero, tanto vasto quanto colmo. E ancora una volta si pone la domanda, è possibile oggi la grandezza?